La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti. Ben trovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Vediamo quali sono i principali temi trattati dai quotidiani. Partiamo dal mattino nazionale, sulla prima pagina si parla dell'incontro ieri a Bruxelles del Premier Conte, le proposte dell'Italia in vista anche sulla prossima legge di bilancio e si parla di patto di stabilità ma anche di migranti. Vediamo il titolo, Fondo Unione Europea, il piano sud di Conte, il Premier a Bruxelles chiede di non calcolare nel debito le risorse nazionali per gli investimenti. In ballo fino a 40 miliardi, spiraglio sulla distribuzione dei migranti, penalità per chi non accoglie. Il Presidente del Consiglio Conte ha un suo piano per il rilancio del mezzogiorno che presenterà in Europa perché venga accettato. Il Premier chiede di non calcolare nel debito le risorse nazionali per gli investimenti. In ballo circa 40 miliardi di euro. Qui nell'articolo si parla di milioni ma vediamo che sul titolo invece si parla di miliardi. Andiamo avanti, in retroscena si complica il salvataggio all'Italia, il tesoro frena, entriamo dopo. E poi per quanto riguarda invece le nomine dei sottosegretari, rissa nei partiti del governo giallorosso, per i sottosegretari slittano le nomine. Ancora restiamo in alto, una cinese denuncia, giallo a capi, furto milionario di gioielli sullo yacht VIP. Di lato invece vediamo per l'analisi i rischi nascosti della bozza sugli sbarchi. Non sappiamo allo Stato a che punto siano le trattative del nuovo governo con l'Europa per la gestione dei migranti. Si va verso un'ipotesi minima di grande disponibilità per trovare un accordo enunciato ieri da Conte. E poi commissario ad hoc, stile di vita all'europea, giusta difesa. Ancora ricerca con il trucco, le autocitazioni dei prof italiani per scalare le classifiche, una citazione appropriata e segno di cultura. Autocitarsi invece fa un po' cafone. Eppure in Italia le autocitazioni, i favori incrociati, tu citi me, io cito te, dialogano tra i prof universitari al punto che scienziati e ricercatori del bel paese stanno scalando le classifiche mondiali. Fenomeno sorprendente perché la ricerca italiana è sottofinanziata. Centro pagina, si parla di calcio, in particolare vediamo nella fotonotizia il Diego Armando Maradona in primo piano ma anche si parla del San Paolo. Vediamo, intanto per quanto riguarda invece le notizie, la storia di Diego Armando Maradona, la fragilità di Maradona, l'autunno di un mito. Questo è il titolo, le tristi immagini di Diego che torna ad allenare in Argentina. E poi vediamo le due immagini di oggi di Diego Armando Maradona e di ieri campione del Napoli. Per quanto riguarda invece il San Paolo, la rabbia di Ancellotti, gli spogliatoi, ancora un cantiere, una vergogna per tutta la città. Furia Ancellotti per le condizioni dello stadio San Paolo, l'allenatore del Napoli al cospetto di lavori ancora in corso, attacca e in due mesi non sono riusciti a sistemarli. Questo è disprezzo verso la squadra, replica Basile, commissario delle universie, di parole ingiuste, domani l'impianto sarà consegnato. Andiamo di taglio basso, perso il biglietto, superenalotto, non riscosso, speriamo sia solo tattica. Qualche anno fa sono stato derubato, curiosava tra i banchi di un mercatino di libri, quando mi sono accorto che la lampo del mio zainetto era stata aperta e il portafoglio non c'era più. Ricordo ancora il gelo dell'istante, lo avevano derubato anche del biglietto vincente del superenalotto. Andiamo avanti, di taglio alto, nei box, il nuovo libro, McEwen, anche i robot sono capaci di amare. Ancora la voce da Parigi, lo sciumi è cosciente, le staminali ultima speranza sullo futuro e poi, turturro il film, faccio rivivere il rivale del grande Le Boschi. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Sulla prima pagina del mattino di Salerno vediamo il titolo di apertura, si parla dell'inizio della scuola, vediamo la scuola, mancano i prof presidi a caccia di 1200 supplenti, congedi, malattie, cattedre ancora vacanti, servono docenti di italiano, matematica e fisica, ci vorrà un mese per completare gli organici. Professor ricerca si torna in classe, ma per avere tutti i supplenti ai loro posti dovrà passare almeno un altro mese. Per l'università, test per le professioni sanitarie, la carica dei mille quiz inutili. E poi nella fotonotizia, altro tema, all'ambiente, rifiuti nello SIR di Battipaglia, niente trasferimento a Polla, la provincia, soluzione temporanea. Centro pagina, l'inchiesta, senteisti a Ruggi, prima condanna definitiva, filmata mentre era in spiagge, in orario di lavoro, sei mesi all'ex caposala, dovrà risarcire l'azienda. È diventata definitiva la condanna a carico dell'ex caposala, coinvolta nell'inchiesta Just in Time sull'assenteismo a Ruggi. L'imputata fu condannata in abbreviato a sei mesi per truffa, con il risarcimento del danno in quanto le ore lavorate risultavano inferiori rispetto all'obbligo contrattuale. L'inchiesta giudiziaria, venuta alla luce nel 2015, era costata alla donna il posto di lavoro. Ancora centropagina, l'allarme a Sarno, paziente in ospedale con la scabbia, medici contagiati, scatta la profilassi. Per le notizie di Spalla, politica, sprint De Luca, liste pronte per le regionali, gelo con il Movimento 5 Stelle, dopo il colloquio col segretario PD, De Luca ha acquisito le certezze mancanti alla sua ricandidatura alle regionali con l'appoggio di tutto il partito e gli è stato chiesto di gettare le basi per un dialogo con i 5 Stelle in Campania. Sempre per la politica comune, il Tar cede il passo sugli istituti di partecipazione. Andiamo in basso, il calcio serie B. Giannetti recupera, la Salernitana sorride, l'attaccante sarà titolare nel derby di lunedì contro il Benevento, Cerci verso la convocazione. Buone notizie da Giannetti e dal Botteghino, meno buone quelle che riguardano gli altri infortunati. La Salernitana ha ripreso ieri mattina la marcia verso il derby contro il Benevento. Per la musica, nelle foto, Oren Appestum, Appestum dirigo la bellezza e poi DJ Alok ritrova le radici, brasiliano nel Cilento. Andiamo nei box in alto, il Gusto, Positano Gourmet, sfide ai fornelli, Italia-Francia e poi Beer Art Festival all'Irno, Boccali, Note e Street Food, questo per gli eventi. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Restiamo nel Salernitano e andiamo sulle cronache, vediamo qual è il titolo di apertura per il quotidiano salernitano, vediamo il selfie scatena i 5 stelle, Salvini e il Camorrista, Francesco Matrone, figlio di Franchino a Belva, un caffè insieme al mio caro amico Matteo, lettera di Pasquale a Liberti, all'ex ministro, quando ho visto la foto ho tremato io per te. Andiamo in alto, Battipaglia, la Movida Piance, Vincenzo Turturiello, inspiegabile gesto a casa del fratello e poi le nomine del governo, Zingaretti chiama Di Maio, vuole De Luca Junior, sottosegretario, spera anche Conte. Nel centro-destra caccia al candidato Cirielli in pole la Lega Cala, l'eurodeputato Valentino Grant per le prossime elezioni regionali. E poi Salerno, scuola Pirro, allontanata la docente di matematica, vessava alcuni studenti. Continuiamo, l'accordo Pecoraro-Renne e Di Feo, alleanza tra i clani in 17 verso il processo e poi alla scuola San Tommaso d'Aquino, un primo giorno dedicato alla 12enne, la preside Frigenti e gli alunni hanno ricordato Francesca Raiola. Andiamo poi a Pagani in basso, Pagani in dissesto finanziario, la maggioranza vota compatta, opposizione fuori dall'aula. Questa è la prima pagina di Le Cronache. Andiamo infine per le prime pagine sulla città, vediamo quali sono invece i principali titoli per il quotidiano, vediamo tutti a scuola, in cattedra, anche Pepper, Rocca Piemonte, la campanella suona per la prof Robo, pellezzano, disabile, senza sostegno, la mamma denuncia tutti, a Scafate, al Pacinotti, sedie e banchi acquistati dai genitori, paura a cava, elementari evacuate per un rugo. Nella fotonotizia Enzo Dolce ricevuto al Quirinale un onore, grazie Presidente, e poi per il calcio salernitana ci sarà, avventura sogna la strega, no, verso il derby con il Benevento. Di fondo Salerno pulita, stipendi differenziati per chi pulisce i bagni, e poi l'emergenza, stranese da ordini, rifiuti all'ex stir, ancora agronocerino sarnese, e consorzio e bollette, Tuccillo se ne va. Per le notizie invece di Spalla, la cronaca, Eboli, morte del tifoso, tre camici bianchi finiscono indagati, a Capaccio Pestum abusivismo edilizio, le ruspe sono ferme da un quarto di secolo, mentre a Monte Corvino il falso avvocato truffa l'anziana, bottino da 40 mila euro. Andiamo in alto, sotto il nome dell'attestata, mazzette giudici di pace, intercettazione ascoltate male, carabiniere sette mesi agli arresti, clamorosa archiviazione. Mentre di taglio basso, lutto nella chiesa, Vignesi, prete dell'ascolto, Don Enrico, primo parroco dell'Arbostella, vi restò 30 anni, la curia salernitana e la comunità dei fedeli del quartiere Arbostella sono scossi dal lutto per la morte di Don Enrico Vignes, storico parroco della chiesa di Gesù Risorto, originario di Eboli. Per oltre 30 anni è stato la guida delle famiglie, il punto di riferimento per generazioni che lui hanno trovato ascolto e sostegno. Se l'acilento, chi colotta con il tumore, c'è la gara di solidarietà. Queste le prime pagine dei nostri quotidiani, ora torniamo sulle pagine del mattino nazionale per vedere quali sono i principali temi trattati dal quotidiano e che hanno proprio carattere nazionale. Partiamo con la presenza ieri del Premier Conte a Bruxelles, vediamo quali sono state le richieste del Premier italiano. Superare il patto di stabilità e nuove regole sui migranti, questo è il titolo, Conte vede von der Leyen, ridurremo il debito ma puntando sulla crescita e sugli investimenti, sui profughi, penalità a chi non li accoglie, la sponda della Francia per cambiare Dublino. Per il capo del governo, incontri con Sassoli, Michele Tusk e Juncker, lo staff della Presidente, un buono scambio. E poi di taglio basso, commissari in ritiro in bus, Gentiloni, Ursula e il mister, team boarding di 24 ore allo Chateau du Lac, dell'ex Premier, anche la delega su Eurostat. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre per quanto riguarda l'incontro che si è tenuto ieri a Bruxelles, lo abbiamo visto, si parla anche della questione migranti, vediamo l'apertura da Bruxelles, profughi, Bruxelles apre meno fondi a chi si sfila, Conte ottiene rassicurazioni, soldi dall'Unione Europea, condizioni che si rispettino gli accordi, investimenti sulla green economy per spuntare più margini di flessibilità. La Presidente della Commissione oggi cambierà il nome della delega sullo stile di vita europeo. E ancora per il Trattato di Dublino e Patto di Stabilità, in attesa di radicali modifiche, si cercano nuove vie interpretative. Di taglio basso la strategia, l'Italia pronta a consentire gli sbarchi, solo dopo una distribuzione preventiva, la Morgese in attesa di un accordo definitivo con l'Europa per le situazioni di emergenza potrebbe aprire i porti. Il 23 settembre alla Valletta Summit tra Italia, Malta, Francia, Germania, Finlandia e Commissione dell'Unione Europea. Chiudiamo questa pagina ancora, parliamo sempre di Europa e di Italia, dei rapporti, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, nel titolo di apertura, si chiede sul Patto di Stabilità una maggiore apertura proprio per quanto riguarda anche i fondi per gli investimenti con particolare attenzione verso il Sud. Vediamo infatti il titolo, per i piani del Governo, Unione Europea liberare dal Patto i fondi al mezzogiorno, l'obiettivo di conto è ottenere un cammino agevolato per il Sud. si potrebbero utilizzare 35-40 miliardi senza i vincoli del Patto di Stabilità. Questa è l'ipotesi. L'eurodeputato Cozzolino fu promotore della riforma con Gualtieri che oggi è al MEF. La visione europeista dell'attuale esecutivo favorisce il raggiungimento di un obiettivo inseguito da tempo. E chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti, andiamo ora, veniamo in Italia, c'è la partita delle nomine dei sottosegretari sul Banco del Governo e un nomine che slittano e vediamo perché, infatti vediamo nei numeri probabilmente il motivo principale, almeno dal titolo così si può ipotizzare, vediamo la partita dei sottosegretari in 200 per 42 posti, la rissa nei partiti fa slittare le nomine. Conte vuole chiudere oggi in Consiglio dei Ministri, ma le tensioni grilline frenano tutto, Buffagni e Castelli andrebbero all'economia, scontro su editoria e comunicazioni. Di Maio alle prese con le cordate nelle commissioni, scontro tra Dincà e Fraccaro sulle riforme, sorpresa al Nazareno, era tutto deciso, noi siamo pronti, ma i pentastellati sono delusi. e ancora di taglio basso, PD montano i dubbi sul proporzionale slitta ad ottobre, il taglio dei parlamentari, che era una priorità di questo governo. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra assegna stampa, andiamo sulle pagine del mattino di Salerno, partiamo con la scuola, la ricerca dei supplenti per i presidi delle scuole salernitane, vediamo infatti il titolo, nuovo anno scolastico, presidi a caccia di 1200 supplenti, congedi, malattie e cattedre vacanti, dirigenti chiamati a scegliere i prof, tappa buchi dalle graduatorie di istituto, emergenza a banchi, il comune prova a correre ripari a redi trasferiti in extremis ai plessi che li avevano richiesti. il professor ricerca si torna in classe ma per avere tutti i supplenti al loro posto dovrà passare almeno un mese. Andiamo avanti in classe senza Francesca, le intitoleremo un'aura materno il dolore dei compagni della dodicenne morta a Ruggi a Ferragosto sempre con noi. E poi per l'università, professioni sanitarie e la carica di Emilia che servono i quiz su poesia e storia, il presidente di ostetricia con queste discipline e sblocchi lavorativi ancora polemiche sul numero chiuso si specula sulla salute. Petrarca ai poeti italiani Umberto Eco e Niccolò Macchiavelli guerra fredda e sbarco in Normandia è polemica tra i candidati sul test di ammissione ai corsi di laurea triennali in professioni sanitarie per la poca attinenza tra le domande di cultura generale e la disciplina medica. Chiudiamo questa pagina restiamo sempre sul mattino di Salerno e andiamo ora sulle pagine della provincia in particolare Piana del Sele e Cilento vediamo andiamo a Eboli parte Radisiti ed è polemica costa troppo stasera partirà la terza edizione di Radisiti ed è subito polemica sembrano portare bene anche la manifestazione di cui è il referente Sabrina Masala visto che di anno in anno non solo viene riconfermato il format ma trova sempre più consensi anche se da parte del Comune anche da parte del Comune che da questa nuova edizione destinerà al progetto 24.000 euro e poi la sicurezza prefettura promette i rinforzi sempre a Eboli ad Agropoli invece Manna Lascia c'è una donna al comando dell'arma cambio al comando al comando della compagnia Carabinieri che per la prima volta sarà guidata da un ufficiale donna dal lunedì 16 settembre al comando ci sarà il capitano Fabiola Garello 28 anni a Monte Corvino Pugliano Maxi Truffa da 40.000 euro all'anziana ha preso un 22enne restiamo sempre sulle pagine della provincia di Salerno per quanto riguarda le notizie andiamo sempre sull'area Battipaglia Picentini Cilento ma anche Vallodidiano perché qui si parla di rifiuti si parla in particolare delle novità che emergono che arrivano dallo stir di Battipaglia novità positive anche per Polla vediamo infatti il titolo stop a cerra la provincia rifiuti restano nello stir di Battipaglia la decisione di Palazzo Sant'Agostino frazione umida stoccata per 180 giorni impossibile accedere al sito di Polla soluzione emergenziale e temporanea il combiente risponde ai dubbi sollevati dall'ARPAC criticità risolta stranese evitato il blocco dell'impianto la provincia di Salerno ha deciso le 2000 tonnellate di frazione umida trattata anaerobicamente la cosiddetta fute inizialmente destinata all'impianto di Polla resterà l'ex stir di Battipaglia il presidente della provincia stranese con propria ordinanza infatti disposto lo stoccaggio per un massimo di 180 giorni per affrontare la chiusura del termovalorizzatore di Acerra la misura come si legge nella richiesta inviata lo scorso 26 agosto dal liquidatore di Ecoambiente Salerno era inderogabile si chiede di voler attivare il sito di stoccaggio da voi precedentemente individuato quale soluzione emergenziale e intanto dal Vallo di Diano a questa notizia esultano i cittadini vediamo il titolo il sindaco di Polla un giusto ripensamento e i residenti esultano accolto con soddisfazione il sindaco di Polla Rocco Giuliano la notizia del mancato arrivo dei rifiuti nella zona industriale una decisione che ci soddisfa un giusto ripensamento ha sottolineato il primo cittadino andiamo avanti a Ponte Cagnano sito di stoccaggio in via Irno il verdetto entro 45 giorni in attesa della sentenza comuni e aziende chiedono alla regione di fermare ogni procedura e a Monte Corvino Pugliano incendio a parapoti SOS al prefetto più controlli roghi dolosi vicino alle discariche l'allarme di Chiola e l'assessore chiama i cittadini siete le nostre sentinelle ancora una volta i picentini sono flagellati dagli incendi dolosi in particolare il territorio di Monte Corvino Pugliano ma non basta rendere la situazione particolarmente grave la presenza sul territorio di due ex discariche proprio vicino ad una di queste parapoti qualche giorno fa si è sviluppato un incendio che ha allarmato i cittadini di Monte Corvino Pugliano e dei comuni limitrofi a Futani metanizzazione ancora al palo si mobilitano i primi cittadini lo Stato sta ritardando con i lavori e la metanizzazione rischia di rimanere al palo i sindaci del Cilento tornano a mobilitarsi e chiudiamo queste pagine chiudiamo il mattino di Salerno andiamo ora invece sulle pagine di Le Cronache partiamo dalle pagine di primo piano anche qui si parla di rifiuti si parla del caso dello stir di Battipaglia con la decisione del presidente della provincia vediamo allo stir di Battipaglia altre 2000 tonnellate di rifiuti ordinanza della provincia in attesa del trasferimento in alcuni impianti austriaci stianese così scongiuriamo la crisi parla Romano con tutti questi rifiuti lo stir è ancora a norma questa la domanda che si pone Giovanni Romano infatti vediamo Ancalza Giovanni Romano già assessore regionale all'ambiente Battipaglia è sempre più pattumiera della provincia di Salerno questo è l'unico concreto risultato della disastrosa gestione del ciclo dei rifiuti in regione Campania una domanda con tutti questi rifiuti stoccati lo stir di Battipaglia è ancora in linea con le norme antincendio e con i limiti autorizzativi dell'autorizzazione integrata ambientale questa è la domanda di Giovanni Romano chiudiamo questa pagina dedicata allo stir andiamo ora sulle pagine della provincia in particolare andiamo nell'agro dove a Pagani la maggioranza guidata dal sindaco Alberico Gambino ha approvato il deficit in bilancio vediamo la maggioranza volta il dissesto l'opposizione lascia Laura eppure nella nota annunziata aveva dichiarato che il deficit era sceso a 800 mila euro Gambino a pochi mesi dall'insediamento vediamo insieme alla sua maggioranza ha messo la parola fine votando il dissesto il responsabile finanziario dell'ente annunziata nelle scorse settimane aveva parlato di un passivo di circa 4,2 milioni di euro che nella relazione successiva in poche settimane si era ridotto a poco meno di 800 mila euro vediamo ora la parola passa alla Corte dei Conti di Napoli un atto della maggioranza che viene descritto come una vendetta nei confronti di Bottone e stiamo su questa pagina andiamo a Roccapiemonte rubati i cavi della pubblica illuminazione il sindaco Pagano caccia i colpevoli non ci fermeranno mentre in alto a Scafati Russo slittano senza motivo le 12 assunzioni stagionali chiudiamo questa pagina con le notizie dell'agro andiamo ora nella parte sud della provincia di Salerno vediamo in apertura nel Vallo di Diano il fatto 400 pacchi in Niger con la raccolta nel Vallo di Diano dona un sorriso per i bambini l'iniziativa è stata un successo un progetto quasi unico la raccolta solidale dona un sorriso per i bambini del Niger svoltasi a Sant'Arsenio San Pietro Altanagro e con Tursi Terme è stato un successo tanto da riuscire a raccogliere in due occasioni 400 colli in totale contenenti abbigliamento giochi per bambini alimenti a lunga conservazione scarpe e materiale per la scuola e cancelleria un progetto quasi unico nel Vallo di Diano voluto dal tenente Giovanni Graziano vi è stato anche il gemellaggio tra la scuola di calcio della categoria Under 14 Indomita Sant'Arsenio e la squadra di atleti di Bagaggi andiamo avanti Monte Corvino Pugliano allarme incendi il sindaco Chiola scrive al prefetto di Salerno Russo mentre Rocca d'Aspide decreto ingiuntivo per una donna che dovrà pagare 52 mila euro un pugno di ferro dell'amministrazione comunale di Rocca d'Aspide contro i cittadini morosi in particolare ha destato clamore la vicenda di una cittadina cinquantenne residente in località terziere nei confronti della quale l'amministrazione retta da Gabriele Giuliano ha intrapreso una battaglia legale per recuperare una somma pari ad oltre 52 mila euro relativo al mancato pagamento delle spettanze per la fornitura idrica dal 2007 al 2015 la donna erede di un'abitazione presso la quale risiede non ha mai pagato la tassa sull'acqua e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa vi ricordo come sempre il nostro appuntamento con il Tg di Uno News alle ore 13 a 45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti